Come funziona un attacco di panico? Che cosa succede? Quali sono le emozioni? Che cosa si vive? È tutto spiegato qui. Non sono all'attesa. Andiamola lì. Torna in te. Andiamola lì, torna in te. Non sono all'attesa. Devi fare ancora lì. Ho tutto questo, però è stato inutile. Anziere, stai facendo troppa pressione. In questo spezzone di Inside Out viene spiegato benissimo, in 30 secondi, un minuto, quello che i psicologi cercano di spiegare a parole da una vita. E' questo quello che succede nell'attacco di panico. C'è una situazione potenzialmente stressante o percepita come tale. Attenzione, perché in questa situazione Riley, la ragazzina, si trova in una situazione che lei vive come stressante e che magari è anche facile capire dall'esterno essere stressante. Ma può capitare anche il contrario, ovvero che una persona viva una situazione come particolarmente faticosa, stressante, impegnativa, eccetera, ma dal di fuori il significato sociale che questa situazione assume non è questo. Cioè quindi non dovrebbe perlomeno essere vista come stressante, ma la persona la vive esattamente così. E inizia il ciclo di pensieri, il dovere, la paura del giudizio, la paura del fallimento, l'idea di connettere il proprio valore al proprio risultato. Quindi se non segna almeno un gol allora non vale abbastanza, allora non hai fallito ma sei tu la fallita. E via discorrendo e si inizia, si innesca quel processo per cui il pensiero diventa sempre più rapido, le paure si autoalimentano. E attenzione, una cosa che qui è importante specificare, in questa situazione specifica Riley ha connesso questi tipi di emozioni, ok? Potrebbero essercene delle altre, io ho parlato di paura di giudizio, ho parlato di paura di fallimento, dell'essere fallita, eccetera, eccetera. Ok? Però della pressione sociale ce ne possono essere delle altre, ok? In questa situazione specifica però tendenzialmente i timori sono questi. Inizia a vorticare il pensiero, diventa progressivamente sempre più intrusivo finché ad un certo punto degenera. Cioè sopraffa tutto, le altre emozioni e soprattutto il comportamento della persona che ad un certo punto si sente sopraffatta. Talvolta, se hai già visto dei miei video, mi senti descrivere l'attacco di panico come se fosse una balanga, ovvero con qualcosa che inizia a scendere e tu, una volta che hai iniziato appunto la sua caduta, non puoi più fermare. Qua è rappresentato tramite un vortice, però è esattamente lo stesso concetto. Cioè l'ansia diventa talmente forte che inglova tutto e impedisce l'azione. Impedisce l'azione perché diventa predominante, effagocitante, cioè quindi ingloba tutto il resto, fino a che poi anche fisicamente non si innescano tutte quelle reazioni che, se hai vissuto un attacco di panico o se stai guardando questo video e quindi vuoi approfondirlo, ha anche a fare con il fiato corto, la tachicardia, la paura di morire, la paura di impazzire, la secchezza delle fauci, potenziali giramenti di testa e via discorrente. Inside Out è un ottimo film per comprendere le proprie emozioni, per provare ad approcciarsi alle emozioni, per guardarle da un punto di vista diverso e secondo me questa rappresentazione dell'ansia è sicuramente eccezionale perché è comprensibile da chiunque ed è esattamente la narrazione che viene fatta da chi l'attacco di panico l'ha vissuto. Se vuoi approfondire sul canale trovi un sacco di video riguardo all'ansia e se non vuoi perdere alcun tipo di aggiornamento ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanellina. A presto!